ciao a tutti oggi prepareremo la tisana digestiva il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa ingredienti sono acqua fredda zenzero fresco foglie di alloro e succo di limone diamo il via alla ricetta mettiamo all'interno del boccale le foglie di alloro lo zenzero fresco abbiamo già sbucciato e l'acqua portiamo a ebollizione l'acqua 6 minuti 100 gradi velocità 1 adesso facciamo proseguire la cottura per altri 15 minuti a 80 gradi velocità 1 questo punto lasciamo raffreddare all'interno del boccale una volta che si è raffreddata la nostra tisana andremo a filtrarla possiamo filtrarla o con l'aiuto del cestello andandola inserire oppure direttamente versandola all'interno di una tisaniera una volta filtrata andremo ad aggiungere il succo di limone andiamo a rimuovere il coperchio col filtro aggiungiamo il succo di limone e andiamo a mescolare la nostra tisana adesso è pronta per essere bevuta tisana digestiva grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti